Il camon serrano Già senza pelle Portello, tagliere Ora la controlliamo Anche il tagliere, ragazzi Questo regalo per Natale, vero Giulio? Sì, sì Che legno, eh? Ragazzi, vi faccio vedere il camon assemblato Sì, per travertoni Più il camon serrano Assemblaggio Tutto a mano, eh? Tutto a mano Tutto a mano Ne facciamo tutto a mano Ne facciamo tutto a mano Ne facciamo un altro Un po' di abete Esatto Di merda Per travertoni Attenzione Prima secondo me ci siamo E' il gustare il camon E' una cosa sfiziata per Natale Per travertoni Se most Ti tengo questo Quilliamo Prego The pets delle ricette di Tony e travertone è un regalino per natale se volete vendere il jamon intero prendete questo e vi divertisco va bene ragazzi alla prossima con travertone con Antonio e Giulio grandi ragazzi ciao se noi lo apriamo pure il jamon vediamo un po' come viene questa situazione asciugiamo un po' i succhi del jamon iberico ah è bello è il tipico colore del jamon si vede com'è bello lucido bello come è soggionato bello profumo eccezionale ragazzi si ci piace il taglio vedi 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 è il jamon a Montserrano per tutti gli amici un nuovo presidante prima a storiello ragazzi lucidissimo degustiamo pure dai come? e che vero dico a fare ragazzi assaggiamo il camon buona almeno un attimo al prossimo video con travertone ciao